E' l'Associazione Nazionale Marinai d'Italia di San Michele al Tagliamento ad organizzare la seconda edizione dell'evento sportivo Bibione Open Waters Trofeo Ocean Italian Cup. Si tratta di una gara di nuoto speciale in quanto finalizzata alle pratiche per salvamento. Si svolgerà nelle giornate di sabato 29 giugno e domenica 30 nello specchio d'acqua antistante il camping Cappalonga di Bibione Baseleghe. Patrocinato dal Comune di San Michele al Tagliamento vede il sostegno della Marina Militaria Italiana, della Presidenza Nazionale dell'Associazione Nazionale Marina d'Italia e alla sua buona riuscita collaborano la Federazione Italiana Nuoto Sezione Veneto, che ha inserito l'evento nel calendario nazionale, e la società Bibione Mare. Non potrà mancare il supporto della Capitaneria di Porto di Caorle, della Guardia Costiera Ausiliaria e della Protezione Civile di San Michele al Tagliamento. All'eventuale assistenza sanitaria, se necessaria, sarà la Croce Rossa di Portogruaro a provvedere, ed è prevista la presenza della Sorveglianza Aerea Veneta di Chioggia per la dimostrazione dell'utilizzo del drone di salvataggio. Saranno presenti sei atleti del gruppo sportivo della Marina Militare, reduci dal Mondiale di Salvamento svolto sia Montpellier, presente anche l'atleta paralimpico di livello internazionale Antonio Fantin. L'intento della manifestazione Bibione Open Waters è promuovere la cultura della sicurezza ai mare, aderendo ai principi dell'Associazione dei Marina d'Italia. Gli atleti avranno l'opportunità di dare visibilità a questo settore e si stima la partecipazione di circa una cinquantina di atleti. Sabato interverranno le unità cinofile di salvamento a mare e gli operatori della SAV di Chioggia per dimostrare il volo del drone trasportando un defibrillatore o altre attrezzature medicali e di supporto. Domenica 30 i militari delle Capitanerie di Porto, con la collaborazione della Guardia Costiera Ausiliaria, della Croce Rossa e della Protezione Civile, offrirà una dimostrazione di gestione emergenza in mare, simulando il soccorso di un'imbarcazione sinistrata a largo della spiaggia di Capalonga. Nell'occasione si terranno i festeggiamenti per il riconoscimento della bandiera blu. Da oltre 50 anni, Zambonin cerca le soluzioni migliori per il tuo arredobagno e per i rivestimenti per la tua casa. Qualità e design per prodotti sempre all'avanguardia per darti il meglio. Competenza e cordialità ti accompagneranno nella scelta. Zambonin, un nome, una garanzia. Via Padre Emilio Venturini, Chioggia, Venezia.